come finisce oggi questa partita l'escano l'escano bomber l'escano sempre il zeman cosa pensa è un grande un grande un rinnovatore anche con la sua età è un rinnovatore si pensavo che ci usciva un po di polemica invece assolutamente zemaniano dicono che sta un po sbrambato perché sparagnando giorno dopo giorno va bene va bene così piace comunque zè sì assolutamente sono zemaniano quindi va bene così anche perché va bene la squadra gioca bene quindi va bene perfetto la ringrazio questa bella carica che sparava pronostici 2 a 0 l'escano l'escano e anche anche mora è bello per tutte quindi qui stava tutti bill aveva uno in particolare sì meglio da vicino non è che li ho visti tanto perché sai come da lontano non è che potrebbero dire le anche zeman vero non mi fa dicendo parola come è come allenatore è il migliore che c'è altro come uomo e oddio come uomo amore mamma ma perché non ti fa dicendo cose che ne bozzi dice guarda questo a me mi sta metto mezzo di guai oggi mi stai mettendo mezzo di guai guarda che dopo a me mi sentono tutti scusi se mi fanno sentire che ho mangiato un po male sì che ti sei mangiato mia nonna grazie comunque come finisce oggi 2 a 0 l'escano colai colai o merola colano lescai si lo sei giocato no non lo gioco io sono un po ludopatico l'ultima domanda tu sei più per l'allenatore sfanzante o l'allenatore sbrambante tipo colombo o zeman cioè se più per lo sbrambo di colombo lo spanzi insieme no preferivo colombo purtroppo quando si l'escano colai si bene voto subito ciao grazie ciao vinciamo 2 a 0 2 a 0 ci vediamo al cornacchia già io non avevo conosciuto cornacchia giovanni poi c'è un piacere domenico operatore il mio operatore verso il delfino lo sapete uguale? il verso? alessandro? piacere piazzetto alessandro andrea piacere purtroppo scusatemi se ve lo dico sono due no dei tre nomi colà più comuni alessandro andrea e antonio perché più del 99,9 per cento si chiamano in appuccio la pescara troppo non hai a cui si voglia quanto? 2 a 0 2 a 0 anzi forse 3 3 a 0 tra 2 e 3 a 0 2 a 0 sicuro gole di? gole di? oddio c'è stato giocatore manca ma ricordi? lescano grazie lescano perché ce l'ontaniamo? una volta che sto camminando non mi posso fermare ah perchè se no si ok insomma è molto giocatore 2 gol frescano il signor un uomo inventato Tony Stark ombre Tony Stark prego ciao ciao tifo ovviamente da un ranger e Zeeman invece cosa pensa? dicono che non è andato molto bene di corpo ogni settimana quindi sta un po' costipato si e allora 3 a 0 si sgancia la bomba in banchina vabbè poi lo chiediamo comunque se si è ripreso da dicono che è stato qui in un ristorante del lungomare che non è stata notizia sul rete occhi no verrà a tibore che torna a pescara ah si si quello si si ci crede? no no pensi da aprire vabbè quindi 2 a 0 lescano e merola ok